Sei volumi, alcune migliaia di pagine, un'opera monumentale sulle origini e la storia di Campobasso e quella realizzata da Vincenzo Edoardo Gasdia, ristampata dal Comune con inediti, completa e che a breve verrà presentata al pubblico. La speranza del sindaco Antonio Battista è di fare la presentazione ufficiale a fine giugno, ma se così non fosse, di sicuro per i primi di settembre, ha detto, perché a luglio e agosto non vi è l'attenzione che l'iniziativa merita. Una presentazione che si sarebbe dovuta tenere a metà gennaio, ma c'è stato un problema con l'assegnazione del codice ISBN, ora risolto il codice c'è, l'editore Palladino lo ha inserito nel materiale, adesso il primo cittadino deve solo dare il visto si stampi a porre la firma, il suo auspicio è farlo in questi giorni. L'opera è frutto di ricerche lunghe, puntigliose che Gasdia, prefetto, storico e uomo di cultura, non Campobassano ma Bergamasco, realizzò in tanti anni prima di pubblicare gli ormai celebri ma rari due volumi nel 1960. Un terzo non fu mai dato alle stampe per un problema, si dice, con l'allora amministrazione comunale. Gasdia, anche uomo di fede, si ritirò nel monastero a Monte Cassino portando con sé la corposa documentazione. La ristampa prevede la pubblicazione dei due volumi già editi, più altri quattro di cui due, ha spiegato Battista, con documenti inediti e unici su Campobasso e sul territorio su cui è sorta la città, alcuni del 700 d.C., uno addirittura di prima di Cristo, un lascito testamentario prezioso. Ci sono poi pezzi della storia del dopoguerra, non a tutti noti. Abbiamo intercettato i tre studiosi che lavoravano su questo materiale a Monte Cassino, ha detto ancora il sindaco, un archivista, un archeologo e uno storico e grazie alla loro collaborazione è stato possibile mettere finalmente insieme l'opera completa del Gasdia. Verranno realizzate mille copie di ciascun volume, 6.000 in tutto, da distribuire a biblioteche molisane, a quelle principali italiane, alle autorità, alle scuole e quanto resta tenere come rappresentanza. La sola stampa dei volumi costerà al comune tra i 30 e i 40 mila euro, comprese le parcelle degli studiosi, la spesa complessiva per il comune intorno ai 140 mila euro. Online sul sito del comune sarà possibile scaricare gratis l'opera. Chi vorrà poi potrà acquistarla da palladino editore, prenotando al prezzo di costo della spesa tipografica di stampa. Dunque per 30-40 euro si avranno tutti e sei volumi, il cofanetto, identici a quelli di rappresentanza. Anche nel giorno della presentazione chi lo vorrà potrà prenotare e acquistare la storia di Campobasso del Gasdia nella nuova inedita veste.